eccoci benvenuti a una nuova puntata di dr penis oggi siamo qui con gianluca gianluca è un paziente di roma a 52 anni 52 anni e la prossima settimana verrà impiantato con una protesi al pene gianluca tre anni fa ha avuto un trauma un forte trauma durante il rapporto ha avuto una rottura del pene e ha sviluppato delle fibrosi dorsalmente che hanno curvato il pene a quanti gradi è quasi 90 90 gradi riesci gianluca in questo momento ad avere una attività sessuale no come ho detto l'altra volta no perché riuscire poter dire di riuscirci direi nelle sia nel senso che dovrei aiutarmi con tante cose ma comunque sia comunque sia la curvatura e la rigidità quindi l'estensione non è non è più come prima chiaramente dovuta al fatto anche di queste di queste placche che che non fanno più estendere il pene ti ricordi quando io ci siamo visti la prima volta tre anni fa ti avevo consigliato di intervenire cioè avremmo provato qualcosa ma se poi non avevamo i risultati che ci aspettavamo era meglio intervenire prima perché poi il pene potrebbe nel tempo avrebbe potuto avere una netta riduzione è successa questa cosa? è successa purtroppo è successa nel senso che tre anni fa quando io sono venuto qua la prima volta essendo la cosa dovuta è successa da poco tempo non ero così convinto come penso qualunque persona di di dover mettere mano in una cosa con compro una cosa esterna a quello che è la protesi è interna no no nel senso che la cosa esterna che è interna io so bene perché comunque una protesi è sempre una protesi la prima volta che io dico al paziente perché la mia sensazione è basata sia su quello che vedo da un punto di vista di esame clinico sia da un punto di vista di esperienza io riesco subito a dire il paziente quello che potrebbe essere il futuro se io mi esprimo e dico protesi so benissimo che la prima cosa che il paziente fa è retrarsi e quindi non accettare questo discorso però purtroppo la protesi nel caso delle fibrosi severe è l'unica cosa che arresta la malattia perché la malattia è una malattia cronica degenerativa che accorcia il pene allungare poi il pene diventa molto molto difficile quindi se uno arriva troppo tardi a fare un intervento riesce ad avere una buona attività sessuale ma da un punto di vista di soddisfazione estetica avrà una riduzione della dimensione che noi vogliamo in tutti i modi evitare questo deve essere un concetto importante che noi dobbiamo mandare a tutti quelli che hanno fibrosi del pene e che sono resti ad affrontare questo tipo di procedura psicologicamente prima e adesso cosa ti aspetti come stavi e cosa ti aspetti dall'intervento psicologicamente come stavo prima psicologicamente come diceva il professore come stavo prima non avrei mai voluto fare l'operazione psicologicamente come sono ora voglio immediatamente fare l'operazione di fatto ho ritirato oggi pure il test del covid e ringraziando dio sono negativo e posso essere operato proprio perché come diceva il professore diciamo tra virgolette sono stato costretto a doverlo fare proprio perché mi sono reso conto da me sulle mie mani perché comunque io sono una persona che sono come sant'ommaso ecco non credo e non vedo se non credo cioè non credo se non vedo però ti ricordi ti avevo fatto vedere dei pazienti hai parlato con delle persone che avevano la prova il discorso era comunque sia che volevo volevo essere esserne sicuro io perché proprio perché avevo sentito tante tante altre persone che che comunque ne raccontavano di cose parlo di dottori di professori e con il tempo invece mi sono reso conto che effettivamente diventava sempre più complicato avere rapporti perché chiaramente la malattia è una malattia cronica e degenerativa quindi non ha un arresto e con il tempo mi sono reso conto che mi dovevo fare aiutare da farmaci da gommini e quindi e soprattutto poi mi sono reso conto nel momento in cui non avevo rapporti nel momento in cui siamo normali sotto e quindi flaccidi mi rendevo conto che era più piccolo era molto più piccolo rispetto a come io l'ho sempre conosciuto quindi come l'ha visto il professore un mese dopo due mesi dopo che ho avuto il problema e a quel punto ho ricontattato il professore e gli ho chiesto ma si riduce in flaccidità pure e lui mi ha detto assolutamente sì e a quel punto ho detto no alt fermiamoci un attimo ho detto cioè alt a sto punto non rischio non rischio no anche perché vado vado addirittura vado allo zero anche perché il risultato estetico poi non sarà soddisfacente come poteva essere certamente due o tre anni fa va bene Gianluca siamo pronti io sono pronto per accompagnarti in questo percorso terapeutico speriamo incrociamo le dita speriamo che tutto vada bene come come vogliamo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima puntata di dr penis arrivederci a tutti e grazie